Il nuovo presidente dei laboratori Servier ha assicurato che tutte le vittime del Mediatore riceveranno un'indennità. Olivier Laurent ha assunto la presidenza del gruppo farmaceutico a fine aprile dopo la morte del fondatore Jacques Servier. L'antidiabetico, spesso prescritto come farmaco dimagrente ritirato nel 2009, potrebbe causare complessivamente la morte di 2000 persone.